Ale, andiamo su a cambiare il pannolino per favore. Sì? Puzzi? Hai fatto cacca? Puzzi? Dai, andiamo su. Ciao Dudini. Ciao Dudina. Dillo a tutti che sei una campionessa. Anche stamattina abbiamo fatto 8 km. Andiamo su a cambiare il pannolino, dai. Ale, lo rovini così, brutte feste. Allora, ecco, ok. Ale, dai, andiamo. Buongiorno. Oggi è domenica 31 gennaio e abbiamo deciso così, a cavolo, di vloggare a mezzogiorno perché oggi pomeriggio ci saranno i cari moscherati. Non guardate la mia faccia ma sono due settimane che sto facendo la dieta. Si vede? E mi sto purificando probabilmente perché sono stata bombardata. Adesso stiamo aspettando il popo con la carne. Vai, Roale. Eh? Da cosa ti vesti? Da morisse oggi. No. No? Sì? Perché quel vestito hai. Siamo andati a fare le... Cioè, sono andata... Allora, stamattina ci siamo alzati. Manuel ha detto, vuoi fare collegazione con le brioche? Andiamo a camminare. Ci siamo sparati 8 chilometri per andare a fare collegazione. Arrivata a casa a Cesare Le Stufa. Sono andata a fare un po' di spesita. E vi devo far vedere cosa ho trovato. Guardate la meraviglia. Crepe, cookies e cupcake. Ho trovato queste baschettine stupefacenti. E poi, secondo me, io di Cesare ci siamo guardati Masterchef. Io volevo un po' di questi. E c'era! Quindi, è destino. Non so cosa ne farò, ma... Boh, qualche salsa magari. Lì c'è il vetto di Ale. E qua c'è Ale che sta facendo casino. Metti giù. Ale, dai, per favore, cosa ti inventi? Non si gioca con i bicchieri perché se si rompono ti fai male. Non ho l'acqua poppa. Vuoi l'acqua? No, non ho l'acqua poppa. Vuoi l'acqua del poppa? No, l'acqua del poppa non si può, amore, bere. Sei troppo piccolo. Potrai berla solo quando avrai 18 anni. Va bene? Adesso mangi la carne. Dopo mangi, lo vetto. Adesso mangi la carne. Cosa mangi? No, lo vetto. Lo vetto dopo. Va bene? Lo vetto! Oddio! Anche la festa. Metti giù che ti fai male. Dai. Grigliata o meglio, barbe... È una grigliata. È una barbequata. Cos'è? 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 Carne al barbecue. Carne al barbecue. La grigliata fa male. E zucchine. Anche la carne al barbecue fa male. No. Sì. No. Sì. No. L'ho letto su internet. Eh, lei si può mettere tutti i grigliati. Ma malissimo. L'ha detto anche Cracco. Guarda che filetto. Ale, buono! Ale. Buono! Te? E te hai questi profumi? Ma sei stanca, amore. Eh? Che inda. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa? Cosa? Popa? Mmm. Buon appetito! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Ale. Ale vuole cosa? L'hovetto. L'hovetto Ale. Vuoi l'hovetto sì o no? Sì. No. Sì o no? Sì. Ma non hai mangiato tutta la papa però? Popa? Popa? La mamma cosa ti aveva detto? Che l'hovetto te lo dava se mangiavi tutta la papa? E tu non hai mangiato tutta la papa, l'ha mangiata la duda? E l'hovetto mai nel suo pane. Dai, vieni. Per piacere ti prego anche. Ti prego? Cosa? Non ho capito. Ridimelo. Ma tua mamma passa per di qua con le frittelle. Ti prego, mamma. Ti prego. Ti prego. Tu non mangerai un pochino? No, amore. Mia mamma non passa con le frittelle. Ha detto che te ne avanza una per domani. Una. Una. E se andiamo noi a trovarli? Ne ha. Perché facciamo tempo prima delle due mani. Vanno via. A che ora? Gado ad andare via, non lo so. Beh, ma possiamo andare adesso in macchina. No. Basta. Finché si spegne le mani le bronze. Ti ha fregato l'hovetto il papà Ale? Ma danni un pezzetto il papà. Beh, ma oh. Ma stiamo scherzando? Ma lo ha messo tutto in bocca. Ma cosa fai con tutto quello che ho detto lì in bocca? C'ho disgraziato. E quindi nascono i rapporti con... Cosa hai preso lì? Fa vedere. Scusano il yogurt. Cosa vuoi? Qualcosa di dolce. Io sono dolce. Prendi me. Te lo farò il perso, vorrei? No, amore. Non c'è niente di dolce. Compriamo un'asina. A fargene cose. Che ne ho usato più di uno in sta casa. Portare il latte non solo nelle ragioni... Eh, faccia sexy? Eh, faccia sexy? Amore. Vuoi un po' riciccolata? Non è buonata. No, basta. Ehi. Ehi. E' buono? No. Non è buono il succo della pera? E perché lo stai bevendo allora? Dalla a mamma. Se non è buono. No. E' buono allora? E' mio. Non è tuo. L'ho fatto io. E' mio. L'ho fatto io. Con le pere. No. Niente. Ciao. Lo so, fa schifo, però ho poco tempo e quindi questo è quello che è uscito perché ha il vestito da tigrotto, quindi la mamma tigrotta. Ok, sto correndo come una pazza per cercare di recuperare Manu e le Ate. Ciao tigrotto! Ciao tigrotto! Ciao tigrotto! Ciao tigrotto! Ciao tigrotto! guarda che masce guarda sono e il e Ciao! Buongiorno! Grazie a tutti. Prendilo! Ah, prendilo, orso! Prendilo! Sarsino! C'è Rivi! Prendilo! Che stai facendo col telefono di asia? È una decarfinata intensa. Eh? No. Una cosa. È la cosa? No, no, no. È il tuo cucino, mi ricordo che... E fai un selfie? Già la riguarda. Ciao, scusate le condizioni spaventate. Ma... Tutte le roba che avevo in faccia oggi sta dando i suoi frutti. C'è, sono sudattissima. E niente, adesso devo sistemare un po' il casino. I nostri amici sono appena andati via. Ale è stanchissimo perché non ha mai ovviamente dormito. E quindi adesso devo mettermi a sistemare. Però volevo farvelo vedere un attimo. Ma lo sappiamo fatto tanto mentre eseguiamo. Ciao, Ecer. Cosa stai facendo? Ciao, Ecer. Ciao, Andati a prendere una lunga. Ma perché continui a disfare il divano? Salve. Eh? Sono venuto a prendere i miei figli. e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!